bella raga sono meta matteo e siamo in nuovo in questo video voglio fare una cosa nuova tempo fa mi avevate chiesto di fare prova a non ridere io vorrò fare prova a non ridere però con dei video di favij dei pezzettini di favij e vediamo se non riuscite a ridere con questi pezzi qua se riuscite a non ridere avete vinto ditemi nei commenti se avete riso oppure no e buona visione di fare le cose al contrario oggi facciamo prima che Favi risponde poi tutto il resto forte sega allora ragazzi la prima domanda di oggi che non è una domanda ma è una poesia che mi ha dedicato una ragazza in sti giorni che ho letto perché è stupenda proprio mi fa capire l'amore che provate nei miei confronti ragazzi è stupendo davvero io la leggerò davanti a voi perché è bellissimo lorenzo hai delle gambe stupende ma io parlo di quella in mezzo si intende oggi e oggi ieri era ieri io con te lo farei ascoltami e cara se vuoi provare a esprimere le tue emozioni perché queste ti arrivano da dentro cioè si sente proprio che ti arrivano non è finita forse non sai che nella mia vita non sono mai stata così pervertita ah madonna sono io che ti faccio scattare il fuoco dentro con amore la tua futura moglie a cui fai vinto che cazzo vuol dire io ragazzi veramente io della poesia non ho mai capito un cazzo nel senso che io ho provato sempre a dedicare poesie romantiche alle ragazze ma adesso in avanti il tuo sorriso è il più bello della piazza e pensare che ancora non hai visto la mia mazza pieno di figa posso già non posso credere a quello che sto per leggere perché ho dato un'occhiata veloce ed è agghiacciante sono una donna di 42 anni e una figlia di 13 lei è una grande fan di favij questo ragazzo fa video su internet ed è molto famoso tra i giovani io ho iniziato a vedere dei video per caso per sapere cosa ci trovasse mia figlia in quel ragazzo non so come sia successo ma quel ragazzo mi attratta da subito sono fissato ormai quando faccio l'amore con mio marito penso a favijeri e si vanno a rimorchiare le bilf porca vacca ho visto una pagina su favijeri tu e lori avete una figlia è la madonna è già avanzata questa figlia due punti perché io mia figlia la chiamo proprio figlia anche il mio cane lo chiamo proprio cane papà ma la mamma sta male no perché stanotte l'ho sentita che urlava il tuo nome avrà avuto un incubo se la figlia si chiama figlia il cane si chiama cane il mio nome è marito immaginati una che orgasma di notte grida che bello avere dei ragazzi come voi siete fantastici ciao zia come stai o cazzo è un nome che non avevo pensato però è carino quello tutto bene se hai qualcos'altro nel tuo repertorio di frasi a parte o cazzo oddio ti prego dimmi che sei davvero tu io sono o cazzo oddio aspetta aspetta va bene aspetta devo chiamare la mia 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 amica aspetta se hai bisogno di respirare in un sacchetto per non svenire il sacchetto è cazzo oh cazzo e siamo a tre sauna sauna parla con favij si vabbè ma non è una cazzata ma non è una cazzata te lo giuro si vabbè dai porca puttana porca porca è morta quella posso fare una foto? si ma stai calma posso fare una foto ti prego ti prego ti prego ti prego fai le foto quello che vuoi grazie mi sto sentendo male eh lo so il capezzo lo fa effetto a tutti posso fammi vedere la fan art ti prego fammi vedere la fan art tesoro grazie prego tesoro tu che sei rimasta qua vai a prendere una tisana e iniettagliela forte forte ma anche due anche due bellissima grazie perfetto papi salutavo di lei la casa di satana la casa di satana salve signore prenda più camomilla la prossima volta al supermercato che serve allora adesso tutti stai calma 1 2 3 su e giù e su e giù oh basta calma calma stai calma respirate su niente mi è servito è durata un secondo niente ciao zio guarda chi c'è guarda chi c'è con chi sto parlando ciao ragazzo è mia moglie state bene tutto a posto sì 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 benissimo meglio di così non si può state guardando la tv vi ho interrotto questo momento tranquillo di romanticismo no lei cazzeggiava il cellulare io cazzeggiavo sul cellulare love is in the air ho 30 anni eh sì no si vede che ne ha un po' più di me però vabbè dalla barba esatto guarda se me ne hai preso in attimo un po' perché quella di babbo natale mi è caduta e non la trovo neanche più quella quindi non ci riusciva è uscito fantastico bravo zio così si fa vediamo se riesco a rimasciare che cosa cazzo ho appena visto hai mai visto un polipo così figo in vita tua di la verità sei un figo grazie grazie mille eh lo so lo so me lo dicono tutti guarda e tra l'altro sono anche un bravissimo polipo in grado di fare delle tante espressioni facciali tipo posso sorridere essere triste sorridere triste sorridere triste sono riuscito a farti ridere così bellissimo metti il drago perfetto dai proviamo questo allora non mi ricordo qual è il drago questo no manco per il cazzo questo è il drogato ho della roba da sballo cazzo ecco ah perfetto il tuo più grande desiderio in questo momento tu tu che hai raccolto le sette sfere del drago adesso puoi esprimere un desiderio sputta fuoco scusami zio dai mal di gola colpisce tutti ah sei un grazie zio no beh io lo so che sono grande sono il drago più grande della con te amico mio ti immagini un drago così possente che si mette a cantare tipo sono le tagliatelle di no beh il bello è che scrivi ah 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 però non dai espressioni facciali canta qualcosa ma come hai mai visto un drago che canta zio ascoltami zio ma tu hai mai visto un drago che canta e mi schilla io non vorrei chiedertelo ne provo un'altra che è dedicata a tutti i draghi volare con te sognare perché sei te che fai battere il cuore a me una piutonata baby di justin bieber grazie zio grazie grazie troppi complimenti voilà tutto a posto come stai è stato un grande ma cos'è sto fatto come ho si e me dire coso come ho e poi schippa ma che cazzo schippi è Fabi J no non sei Fabi J no allora non mi ne prendo ascolta 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 hai visto mai un panino che somiglia a Fabi J cioè insomma ebbè dai prendiamo la coca cola mac menù e le pimmie dove lo mettiamo insia non si tratta così un panino è stata una cosa è stata una cosa grande credo sei tu ti hai riconosciuto la voce ti giuro mi fai morire da ridere io ti stimo da via allora stai per una grazie grazie tu sei un mito te lo giuro io ho visto tutti i tuoi video guarda anche per me è un piacere conoscerti porta e quindi appariremo nei tuoi video no apparirà la porta boom grazie a tutti i tuoi video Cosa? Buon Natale, allora voglio per Natale la PlayStation 4 Tante donne, tante, 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 tante donne Ah, senti, se io metto le donne nel sacchotto Guarda che me le tengo io, eh Non è che puoi prendere le donne tutte quante Chi è che cerchi? Voi, proprio voi, non potete passare Buon Natale comunque Ho aggiunto gli anime Natsuko Natsuko, ciao Ascolta, Suki, eh È serio? Ciao, sono una tipa E ho le tette Viva le tette Quanto è figo Ho sempre voluto essere un fattuto personaggio di un anime Senpai Mi si sta chiedendo l'occhio, senpai Ah, senpai, sì Fai di me quello che vuoi, senpai Ma non avete visto niente voi, non avete visto niente Aligatoukutai masu Questa se sta tenendo la mano sul culo Perché sa di essere gnocca Che cazzo Che cazzo guardi Bella lei, bella lei Che sa di essere figa Ma sai che dicono di solito le tipe negli anime Che sono in questa posizione? Perché pensi che possa essere interessata a te, Kiritokun? Non lo so perché Dicono a queste cagate tipo Frienzone Oddio, Izumi Che sembra Ellie di The Last of Us questa? Te manca la lingua, zì E fai la dubstep con gli occhi pure Here we go E come ultimo ragazzi One, one Eh, la madonna One Corromocchi Ma coppie per firmare i miei lavori Che ho soltanto tanto per farli Vieni, allora Come, come, come ti chiami? Per Ma Quando il duro lavoro nel fare un prodotto Paga Eh, perché effettivamente io ci metto un sacco a incidere Tieni Mattia Sei l'amore Parle sin dall'inizio del video E quindi proviamo a fargliela Ti piace Hunger Games? E devo vederlo domani quando è uscito Non sono andata a vederlo Porca troia è uscito quattro anni fa Sì, ma solo i primi due perché il terzo non è accenso Ah, ok, perfetto In realtà è uscito il terzo Però non fa niente È uscito anche il quarto Però non fa niente Qual è il tuo personaggio preferito? Di quale? Che cazzo ne so Del, del, del primo Del primo U Ci vediamo a casa mia stasera? Non tendare di cambiare discorso T'ho fatto una domanda Hai visto Hunger Games? Sì, qual è il tuo personaggio preferito? No, no, questa è la domanda che t'ho fatto io prima Non me la puoi rigirare Il mio è Pita Il tuo qual è? Oh Guarda che su Fullmetal Alchemist Goku non c'è Ok Ma che cazzo c'entra? Qual è il tuo personaggio preferito di Hunger Games? La ragazza di fuoco Il tuo personaggio preferito di Hunger Games Sì Sì Che non hai numeri? No, 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 no Perché c'è il microfono Mentre dicevo quello Qual è il tuo personaggio preferito di Hunger Games? Ragazzi qualcuno chiami un'ambulanza Vi prego perché è grave la situazione È Pita È Pita Te lo sto dicendo Che è il tuo personaggio preferito di Hunger Games? Lo so Chi è il tuo personaggio preferito di Hunger Games? Pita In questo video fatelo vedere un po' tutti Perché sono stata la prima persona a creare questo tipo di video E se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su Se avete domande commentate e iscrivetevi al mio canale Bella